E' stato convalidato questa mattina l'arresto di Vincenzo, il 17enne di Forcella, che l'altro giorno ha coltellato al collo la fidanzatina, Coetana, a Piazza del Plebiscito. Il giovane resta dunque nel carcere di Nisida con l'accusa di tentato omicidio. La convalida è arrivata dal Tribunale per i minorenni di Napoli nella tarda mattinata e per lui dunque restano in vigore le misure cautelari. La fidanzatina, Simona, sta bene e se l'è cavata con poco più di una settimana di prognosi dopo le cure ricevute all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Lui l'aveva attesa in Piazza del Plebiscito lo scorso 12 gennaio, quando Simona stava tornando a casa nei vicini quartieri spagnoli. La bracciata le ha sussurrato mi dispiace all'orecchio, poi le avrebbe sferrato un fendente al collo. La lama fortunatamente ha solo sfiorato la carotide pochi centimetri e l'avrebbe sgozzata, il tutto perché lui non voleva accettare la fine del loro rapporto, cominciato quando di anni ne avevano appena 14. Dopo il fendente Vincenzo è scappato, ma i carabinieri lo hanno arrestato a casa dopo che si era già liberato dei vestiti usati poco prima e ritrovati nell'appartamento. Simona, la ragazzina ferita, aveva trovato una pattuglia dei carabinieri a cui rivolgersi, era stata subito soccorsa e portata in ospedale. Il generale dei carabinieri Giuseppe Lagala, comandante provinciale dei militari di Napoli, ha invitato tutti a riflettere sulla gravità di quanto accaduto. La violenza contro le donne è un'emergenza attuale e si impernia sul legame malato tra il violento e la vittima. La cosa fondamentale è denunciare sempre, avere fiducia nelle forze dell'ordine.